Buonasera cari spettatori di Fano TV, benvenuti a questo spazio di approfondimento. Questa sera è a carattere elettorale, sappiamo tutti che nel 2019 ci saranno le elezioni a livello comunale, le amministrative, quindi ospiteremo spesso i protagonisti di questa futura campagna elettorale. Questa sera qui abbiamo ospite nel nostro studio una delle protagoniste di questa prossima campagna elettorale, un volto noto, consigliera comunale per Fano 5 Stelle, da tempo impegnata nelle politiche che riguardano la nostra città, è con noi Marta Ruggeri, buonasera. Buonasera. Buonasera, allora innanzitutto da tempo si vocifera che lei nella sua persona e col Movimento 5 Stelle alle spalle sarà una delle competitor a questa poltrona di primo cittadino, innanzitutto una nota di carattere personale perché questa scelta, che cosa l'ha spinta a iniziare questo percorso. Innanzitutto penso che la nostra città abbia bisogno di un cambiamento radicale che parta dall'amministrazione comunale, e i nostri cittadini hanno bisogno di far emergere i loro talenti, anche e soprattutto i nostri soggetti economici e sociali che ad oggi non ci sembrano sufficientemente valorizzati. E bisogna quindi soddisfare i bisogni anche dei quartieri in un'ottica generale, globale e inclusiva. È un cambiamento importante, radicale. Quali sono i passaggi di questo cambiamento? Come dovrebbe avvenire? Innanzitutto con un metodo nuovo che per noi è costituito dalla condivisione e dalla partecipazione politica. Non è più possibile che le scelte vengano calate dall'alto così come siamo stati abituati in questi ultimi anni. Quindi abbiamo ideato all'interno del nostro programma delle prassi concrete che abbiamo intenzione di mettere in campo, che vanno dalle consultazioni online alle assemblee popolari, al giorno del cittadino in municipio, e anche le interrogazioni in consiglio comunale che potranno essere svolte direttamente dai cittadini ad inizio seduta facendo domande appunto alla giunta e al nostro sindaco e al sindaco. Poi per primi vogliamo applicare in città quello che è il bilancio partecipativo, ovvero i cittadini dei singoli quartieri possono decidere come impiegare, in base alle priorità che ritengono più cogenti, parte di quote del bilancio comunale. Dove è stata fatta questa sperimentazione? In altri comuni ha riscosso un grande successo, quindi pensiamo che possa essere un motivo in più per avvicinare i cittadini alle istituzioni. Un coinvolgimento diretto dei cittadini, tutti i protagonisti della scena sociale della città, bellissimo come proposito, però occorre anche forse oltre che cose di praticità quotidiana, anche una visione, ce lo siamo detti più volte, una visione prospettica, una visione, un progetto in avanti. C'è la vita, anche questo disegno? Sì, abbiamo bene in mente qual è una visione globale, inclusiva per lo sviluppo della città. Innanzitutto partiremo con la difesa dei servizi del nostro territorio, in primis la sanità, che purtroppo oggi è diventata terreno di conquista degli operatori privati, e perdendo a volte nella prossimità e anche nella qualità dei servizi. Fano è la terza città delle Marche e deve affermare le proprie potenzialità, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Per farlo, secondo noi, occorre lavorare sulle infrastrutture viarie, innanzitutto creare un collegamento agevole con Pesaro e poi ultimare la superstrada Fano-Grosseto. Per fare questo abbiamo l'appoggio dei nostri parlamentari, che hanno quindi uno strettissimo rapporto con il governo, che ha già detto che le infrastrutture sono dei punti strategici, per cui confidiamo che il risultato possa essere raggiunto. Intendiamo valorizzare anche l'area portuale, per risolvere i problemi che affliggono l'insabbiamento del nostro porto, definitivamente, proprio a sostegno della nostra marineria. E poi vorremmo anche costruire la famosa strada delle barche, visto che la nautica è in ripresa, quindi ha bisogno di una spinta anche da parte delle istituzioni. Vorremmo anche riqualificare la zona industriale, perché è in una posizione strategica e bisogna rilanciare assolutamente l'industria manufatturiera del nostro territorio. Tra l'altro abbiamo anche fatto un piccolo progetto per il rilancio del centro storico, in nome del rilancio appunto dei piccoli commercianti, dei medi commercianti, ponendo un freno alla diffusione della grande distribuzione. Un altro punto che sarà nel nostro programma, certamente, è la riqualificazione del patrimonio edilizio, bloccando così il consumo del territorio, in nome di quella rigenerazione urbana di cui spesso si parla. E poi vorremmo promuovere l'agricoltura, che è utilissima per manutenere il territorio, in nome dell'agricoltura sostenibile, dell'imprenditoria giovanile e poi per diffondere i prodotti a chilometro zero. Questo lo potremo fare anche attraverso l'occulata gestione dei nostri terreni comunali. Quindi un piano di sviluppo complessivo c'è, esiste, e qui ho dato alcune idee indicative, chiaramente qualche spia di quello che sarà compreso nel nostro programma. ma ogni parte, naturalmente, può contribuire al raggiungimento del bene comune. Quindi, insomma, un coinvolgimento dei cittadini, infrastrutture, tessuto sociale, economico, un piano a tutto tondo. Però, insomma, il cambiamento è un po' professato, diciamocelo, da tutti i candidati che si presentano e cercano di dare un imprinting nuovo alla tematica politica che si tiene in città. Però, Marta Ruggeri, in che cosa si distingue volendo confrontarsi con gli altri candidati che ormai sono palesemente dichiarati? E quindi, insomma, che cosa la distingue in questa... In politica non siamo per nulla tutti uguali. Io penso che la mia cifra politica possa essere il fatto che sono una cittadina libera che si mette a servizio della comunità senza alcun tipo di compromesso di potere, di opportunismo di carriera e di dipendenze politiche. Così sarà formata la squadra con cui mi accingo a fare questa esperienza. È noto, invece, che l'amministrazione comunale attuale soffre l'egemonia di un partito che ha il cuore del suo potere a Pesaro e quindi questo fatto è corrisposto ad una sudditanza del nostro territorio all'egemonia e alle decisioni che ci vengono calate dell'alto strutturate in altri luoghi. Questo è visibile in due punti sostanzialmente. Il ridimensionamento dell'ospedale Santa Croce in vista del progettato nuovo ospedale di Muraglia. Quindi tutti i servizi e reparti di degenza verranno lì accorpati con un ridimensionamento e un impoverimento dei servizi pubblici del nostro territorio. E l'altra questione riguarda Marche Multiservizi che sta cercando di imporre la propria egemonia anche sulla nostra ASET e questo sarebbe negativo anche da un punto di vista economico-finanziario perché è chiaro che gli utili che provengono in primo luogo dalle tariffe che pagano gli utenti sarebbero trasportati dal nostro territorio altrove, quindi in Emilia-Romagna dove c'è il socio privato che era. Toccato uno dei temi che penso sarà un tema centrale della campagna elettorale ce lo ritroviamo a cinque anni di distanza uguale, il tema della sanità la difesa del Santa Croce e quindi sembra che da cinque anni a questa parte non sia cambiato niente o poco perlomeno perché lei e con altri protagonisti la ricordiamo davanti all'ospedale da tempo in memoria quindi la differenza per quanto la riguarda per quanto riguarda Cinque Stelle dove sta? Visto che tutti lo vogliono salvare questo ospedale Santa Croce A parole lo vogliono salvare tutti ma nei fatti ci sono delle differenze che adesso vorrei sottolineare innanzitutto per quanto riguarda l'attuale sindaco ha accettato il piano regionale che prevede come dicevo prima un ridimensionamento dei servizi pubblici della nostra città un accorpamento di tutti i reparti all'ospedale di Muraglia Pesaro e poi l'ingresso della sanità privata nel nostro territorio con la clinica privata di Chiaruccia per quanto riguarda invece la candidata centrodestra viene sostenuta dai personaggi che sono stati amministratori comunali proprio quando si è deciso il famigerato progetto di ospedale unico e anzi doveva essere realizzato proprio a fosse sei ore il che avrebbe causato a nostro avviso un danno ambientale molto forte e tra l'altro si era deciso all'epoca per la chiusura del Santa Croce e poi anche si era dato l'avvio a quello che sarebbe stata è stata una speculazione edilizia molto molto grande e forte che la nostra città non aveva mai visto che è stata fermata per fortuna a Santa Croce dovevano nascere appartamenti e uffici invece una grande mobilitazione cittadina, civica e anche politica è riuscita a fermare questo progetto però è chiaro che in questo quadro non tutti i politici sono mossi dallo stesso spirito di servizio che anima noi alcuni invece lo fanno perché vogliono raggiungere dei vantaggi degli interessi o perché sono sottoposti a pressioni di vario tipo quindi un ospedale di Santa Croce volendo si può salvare si deve salvare si deve salvare però per questo ci vuole esperienza ci vuole conoscenza delle tematiche degli addentellati anche della politica e quindi c'è bisogno di esperienza insomma quindi parliamo della sua esperienza politica che sarà necessaria in tutte le fasi in questa fase Sì, io sono consigliera comunale dal 2014 quando sono stata capolista nelle scorse elezioni amministrative quando era candidato sindaco a Darumiccioli e in questi anni quindi sono entrato in contatto con la macchina comunale ne ho conosciuto le sue parti ecco attualmente sono vicepresidente del consiglio comunale sono stata vicepresidente della sesta commissione che è quella che si occupa di turismo, cultura e di sport attualmente invece sono vicepresidente della quarta commissione che è quella che si occupa di bilancio in questi anni di attivismo promosso ed aderito a tante iniziative come ricordava lei in difesa del Santa Croce le ultime in ordine temporale sono quelle della raccolta firme per le mozioni popolari per il referendum però nello stesso tempo mi sono battuta per la salvaguardia di Aset per la trasparenza dell'ambito territoriale e sociale quando era emersa la questione degli appalti irregolari per la promozione del carnevale e di tutte le risorse culturali della nostra città quindi in questo lavoro ho sacrificato parecchio del mio tempo libero l'ho fatto con piacere anche perché ora costituisce un'esperienza che è spendibile in questa fase certamente quindi un patrimonio di conoscenze che vuole mettere a disposizione di tutta la collettività immagino che però tutta questa passione tutta questa esperienza nasca anche da un background da una formazione personale che immagino ci sia sì, mi trovo in politica diciamo perché ho cuore alla mia città e quindi sono a servizio appunto di Fano e qui che è la città che amo ho cominciato a muovere i primi passi per quanto invece riguarda la mia storia familiare perché anche di questo si dovrebbe parlare i miei genitori si sono trasferiti a Fano due anni prima della mia nascita sono cresciuta a Fano ho frequentato le scuole a Fano ho stretto le relazioni amicali più importanti della mia vita in questa città e dopodiché per concludere la mia formazione diciamo culturale e anche professionale mi sono spostata da Fano sono andata a vivere altrove per la precisione ad Urbino un po' a Parigi e anche a Milano quindi quando ho deciso di mettere su famiglia di tornare a vivere a Fano mi sono trasferita nuovamente qui e contemporaneamente ho cominciato a muovere i primi passi nell'attivismo civico la mia primissima battaglia è stata quella per la riqualificazione dei passeggi insieme ad altre mamme e risale più o meno dieci anni fa quando appunto sono entrata nel Movimento 5 Stelle che era appena nato era gli albori e adesso tutto questo percorso si è concretizzato nel fatto che ho inviato la richiesta di certificazione per avere dal Movimento Nazionale appunto la possibilità di presentare una lista che oltre a me come candidato a sindaca dovrebbe avere 24 candidati donne, uomini, giovani dai vari talenti e le varie potenzialità insomma il lavoro per nessuno di lei e della sua famiglia è mai stato un lavoro no no e non lo sarà e non lo sarà allora però insomma un massaggio politico lo vogliamo trasmettere a un corpo elettorale fanese che insomma inizierà a fare dei ragionamenti attorno ai programmi attorno alle idee attorno alle persone perché poi penso che a livello locale più che a livello nazionale si votino anche le persone e il proprio spessore culturale professionale e anche politico quindi insomma sarà importante anche dare però una cifra un messaggio politico chiaro è distinguibile se ce l'ha qual è il suo? sì sì certo naturalmente approfitto di questa occasione visto che sono qui con voi per fare gli auguri ai nostri concittadini a chi ci sta seguendo da casa gli auguri di un buon Natale soprattutto che l'anno nuovo ci porti una ripresa economica e un benessere di cui abbiamo veramente bisogno tutto il nostro discorso politico sarà retto insieme da un'idea globale che è quella di una città sicura quindi lo slogan che utilizzeremo in questa campagna elettorale sarà fanno sicura di sé è uno slogan che può essere interpretato in vari modi a diversi gradi di lettura innanzitutto parte dalla consapevolezza di una comunità che si vuole prendere cura dei propri concittadini partendo dai più indifesi quindi stiamo parlando di bambini di anziani di disabili di malati di persone che hanno perso purtroppo il lavoro e poi fanno sicura di sé esprime anche la dignità di una città che vuole fare della sicurezza ambientale della sicurezza urbana sociale sanitaria stradale la sua cifra e poi significa anche il desiderio di riscatto di un territorio che vuole promuovere e affermare le sue qualità culturali e le sue potenzialità economiche e lo slogan verrà dettagliato dentro il programma proprio con dei capitoli appositi è un programma che sta nascendo in forma partecipata con tutti gli attori economici e sociali della nostra realtà cittadina appena sarà pronto lo pubblicheremo online per la condivisione con i cittadini fanesi e già da adesso stiamo avendo dei riscontri abbastanza positivi sulle idee che abbiamo messo in campo bene la rete sarà di supporto anche per lei come lo è per sempre stato in linea con il movimento 5 stelle bene il tempo è tiranno avremo tantissime domande da rivolgere alla candidata ma sicuramente ce ne sarà occasione per intanto abbiamo conosciuto innanzitutto la persona a grandi linee quelle che saranno le direttrici del suo programma elettorale di campagna elettorale ed è una delle candidate alla poltrona di sindaco per le prossime amministrative io ringrazio Marta Ruggeri per essere stata qui con noi grazie bocca al lupo per tutto e per un prossimo periodo abbastanza intenso che ci immaginiamo per tutti quanti lo sia e quindi grazie a voi per essere stati con noi fino adesso buonasera ai prossimi appuntamenti con gli spazi di approfondimento di Fano TV buonasera grazie a tutti Grazie per la visione!